Vi dico la verità, mi sono cagata addosso perché comunque la Juventus è riuscita a pareggiare la partita da poco, sta quasi per terminare, ma qualora il Torino fosse riuscito a portarsela a casa e ancora può farlo perché non è finita, sarebbe stato veramente un casino per chi tifa non solo Roma ma anche Milan, Atalanta e Lazio. Ciao, bella a tutti da me, ovviamente a tifoso della Roma che posso fare? Stavo sperando in un risultato positivo della Juventus, anche se ragazzi oggi il Torino ha fatto veramente una gran bella prestazione, ha dimostrato che sono vivi anche loro eventualmente per una qualificazione in Champions League, primo tempo pressione incredibile del Torino che l'ha preparata veramente bene e vanno dati i meriti alla squadra ma anche a Mazzarri. Passano in vantaggio su una cazzata da Pjanic siderale, non me lo sarei mai aspettato da un giocatore come lui, soprattutto quando a me, tifoso della Roma, serve che la Juve vada a fare risultato in un derby. Fatto sta che Lukic insomma gli ruba la palla senza risce, butta la palla in rete, ma poi quando dall'altra parte c'è un giocatore che si chiama Cristiano Ronaldo, ogni occasione può essere trasformata in oro. Rembida, perché? Perché un cross perfetto di Spinazzola, ragazzi sembrava fermato in aria, cioè proprio colpo di testa e la va a buttare in rete per il gol dell'1-1. Che cosa significa questo? Significa che mancano ancora due minuti scherzi alla fine della partita, che il Torino non sorpassa la Roma e la Roma c'ha comunque una partita in me, io sto a parlare come se fosse finita ma mancano ancora un minuto e mezzo. Non sorpassa la Roma, resta a 57, Roma se non sbaglio a 58, giusto? Me sa di sì, c'ho un attimo di vuoto ok perché l'Atalanta sta a 59 se non me sbaglio e quindi Roma con una partita in meno che c'ha la possibilità eventualmente di provare, provare! Ad allungare in classifica, però so tante le squadre quest'anno che stanno provando a prendersi questo quarto posto quindi non sarà facile però, visto che c'è sta Lazio-Atalanta Dobbiamo provare a fare del nostro, noi dobbiamo fare risultato e non pensare a quello che fanno le altre squadre, ma è ovvio che stasera ci penso che gioca prima! Eh cazzo, un conto è che dici che gioca prima della Roma, ci penso! Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto ma secondo voi alla fine dei fatti il pareggio è giusto? Secondo me qualcosa in più il Torino lo meritava perché comunque, lo ripeto, hanno fatto veramente la super partita, c'è da Di Caio e gliene fregava quasi in cazzo stasera perché lo scudetto hanno vinto Però per salvare la faccia giustamente comunque qualcosa ci hanno provato a mettere A mio parere però ci ha messo di più il Torino che comunque non è riuscito a vince Se c'ha in campione come Cristiano Ronaldo, magari gli fa, dai fategli questo 2-1, almeno stiamo tranquilli, non me ne voglia i tifosi del Torino Ecco hanno ammazzato un giocatore, vero del culo perché ho messo pure in culo un panchina che ha fatto veramente una prestazione Ho messo Matuito in titolare, ha preso la monizia, ha preso 4 metri e mezza, faffanculo Eeeh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, no hanno pareggiato, vabbè, meglio un pareggio che una vittoria del Torino Non c'ho niente contro il Torino però stiamo a lottare pure noi per un posto di Champions League come voi Ci vediamo domani con tanti nuovi contenuti perché c'è stato un botto di partita, domani no perché Chievo Empoli E Chievo Empoli, no Chievo Spal, non so manco cosa la faccio perché chi cazzo mentre è Però poi la sera c'è stata una partita, c'è stata un'esempio, quella la faccio, ciao